io donerò colpa delle stelle di john green perché è un libro che ho amato moltissimo libro che avrei voluto scrivere delicato ironico intenso grande estremamente commovente ed estremamente ben scritto che ti rimane nel cuore per sempre per cui voglio voglio che gli altri possano provare la stessa emozione che ho provato io